Intervento di Matteo Salvini Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Alt G5 Bisogna educare, informare e spiegare agli insegnanti che rischiano la vita senza vaccino, devono pensare alla loro salute e mettersi in sicurezza volontariamente e liberamente. Io sono sempre per l'educazione, la libertà di scelta, parola, di religione e cura, ha detto il leader della Lega. Infine Salvini afferma, bisogna spiegare che sopra una certa età il vaccino salva la vita. Chi ha più di 60 anni ha tutta la convenienza per la sua salute a vaccinarsi.